La posizione sulla decarbonizzazione Io sto ponendo delle domande Nessun fastidio Anche tu lo prendi Stai raccontando favole Stai raccontando favole sulla decarbonizzazione Chi è questo qui? Scusi, lei cosa fa? Chi è questo signore? Voglio capire che ruolo ha Io sto facendo delle domande Non sto importunando nessuno La polizia locale non deve fare il bodyguard di Melucci Questa è una veste privata Mi scusi, eh? Questa è veste privata Non è in veste istituzionale Mi consenta? Mi consenta? No, no, inquadri questo signore della polizia locale Lo inquadri Lo inquadri Lei non può impedire Sindaco? Non vuole essere intervistato, Luigi Non vuole essere intervistato Ne prendiamo atto Non vuole essere intervistato Non vuole parlare della decarbonizzazione Benissimo Se parlano di decarbonizzazione tu non capisci No, sei tu che racconti favole La Morselli ha detto chiaramente Che si deve... Ah, no, stavi tu Stavi tu, pappa e ciccia Ci sono anche le fotografie Rispondi 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 Non parli più di chiusura? Non parli più di chiusura? Rispondi Non ti presenti neanche in consiglio comunale Non ti presenti neanche in consiglio comunale Mi spieghi che senso ha tutto questo? Io posto delle domande sulla questione... No, perché si sta parlando... No, allora... Scusa Stiamo parlando... Io sto ponendo... Io sto ponendo delle questioni sulla... Sulla questione ambientale Io sto parlando In maniera civile Ah, mi l'ha fatto l'intervista Allora, basta Chi è questo qui? Basta Eh? Chi è questo signore? Basta, vai Un sindaco che non vuole confrontarsi Basta, vai